Bene, ben trovati. Sono felice oggi di introdurre questo seminario del venerdì, ormai sta diventando una nostra piccola abitudine dell'Università di Foggia di avere degli ospiti che vengono a trovarci il venerdì pomeriggio. Ci chiediamo, ma non hanno meglio da fare il venerdì pomeriggio? No, invece riescono a venire qui a Foggia e a trascorrere del tempo con noi, se non fisicamente a Foggia, almeno collegati appunto a distanza. Oggi abbiamo il piacere, l'onore e il grande interesse di ascoltare Mauro Gancitano, che è una filosofa. Io ho avuto il modo di incontrarla pochi minuti prima della conversazione di oggi e mi sono permesso di etichettarla come filosofa pop, in qualche modo, nel senso che ha questa sua capacità divulgativa di entrare nelle case della gente e di raccontare temi complessi come quelli filosofici con un linguaggio popolare, comprensibile. E quindi secondo me è un merito, io spero che non lo prenda male questa etichetta, che sia accettabile. E leggo, insomma, una biografia lunga pur essendo relativamente giovane e non mi soffermo su passaggi così importanti, poi ma anche magari Giussi Toto vorrà aggiungere qualcosa per essere più puntuale, per raccontare la sua biografia, ma soprattutto la sua bibliografia, perché è una notrice che ha scritto molto, che è molto amata, molto seguita, e seguita anche appunto nell'universo social, nell'universo pop, appunto, con centinaia di migliaia, due o trecentomila follower su Instagram e su Facebook, che diventano delle piattaforme, come lei stessa dice in diverse interviste, delle piattaforme utili proprio per intercettare probabilmente quel pubblico di non lettori o di lettori distratti, che sente le sensazioni, l'esigenza, la necessità di confrontarsi su temi filosofici, ma che forse normalmente in una libreria per comprare un libro di filosofia non entrerebbe, che invece attraverso questo lavoro, ripeto, di apertura, di divulgazione, di comunicazione scientifica molto orizzontale, riesce invece a essere intercettato dalle parole di Maura, dai video e dalle pubblicazioni di Maura e del marito di Andrea Colamedici, con il quale appunto lei è autrice di diversi libri. Non mi soffermo oltre perché appunto so che Giussi ha preparato una presentazione più articolata, quindi veramente sono qui solo per accogliere e salutare da parte mia e da parte dell'Università Maura e passo la parola a Giussi che avrà due parole in più da dire prima di introdurre l'intervento. Grazie ancora. Grazie mille, è magnifico. Grazie a Maura Gancitano per aver accettato il nostro invito. Io ci tengo molto a questi seminari, ci tengo perché sono orientati ai nostri corsisti, gli studenti del TFA Sostegno, ma ormai sono seguiti, diciamo, anche dagli studenti dei corsi di laurea universitari e da un po' tutti coloro che sono appassionati ai temi della psicologia e da oggi anche della filosofia. Noi siamo psicologi, quindi siamo, come dire, affascinati da alcune formulazioni di questi autori che il professor Limone ha appena citato, che riguardano la fioritura personale. In tanti seminari e contributi si parla di questo tema, ma ora non lesina descrizioni rispetto a questa tematica ed è molto interessante leggere la crescita delle persone come fioritura. Si occupano di una marea di temi, tra i quali la filosofia, l'inclusione, a noi molto cara, il diversity management, l'educazione di genere, il digitale e la letteratura. Racconto a Maura, anche se ve l'ho già accennato in un altro incontro, che noi abbiamo un laboratorio con i docenti, i futuri formatori, di digital storytelling, dove la narrazione digitale la fa da padrone. L'anno scorso hanno realizzato circa 600 di queste esercitazioni, quest'anno stiamo cercando di farne altre 800 e con il loro permesso le pubblicheremo su un sito appunto per divulgare questi prodotti culturali. Ovviamente non riesco a riassumere o scegliere quelle che sono i saggi e le pubblicazioni più importanti, perché ne sono veramente tantissime. Magari vi racconto e vi leggo le mie preferite, Malefica, la società della performance, Lezioni di meraviglia e così via. Non tolgo altro tempo alla nostra relatrice, sono felice che sia qui con noi, anche io assisterò con molto e ascolterò con molta curiosità quello che ha da raccontarci e alla fine del suo contributo leggirò le domande che i nostri corsisti o chi ci segue le vorrà appunto porgere. Grazie. Grazie, grazie a voi. Mi sentite? Ok, grazie mille per l'invito e per tutto quello che avete detto, insomma. Sono molto contenta di essere qui e quello che cercherò di fare, dal momento che non abbiamo tempo di fare, non so, magari se vorrete potremmo anche fare degli esperimenti di scrittura, però prima di tutto in quest'ora considerato che vi occupate di digital storytelling, volevo un po' porre delle riflessioni che hanno a che fare con la filosofia della narrazione, con la fioritura personale e con i mondi digitali, perché in qualche modo si tratta di un altro luogo, di un altro spazio che abitiamo, che ci confonde molto, che non sappiamo come abitare e soprattutto di cui non conosciamo effettivamente la criticità, cioè non sappiamo se è vero o se è falso. E allora, a questo proposito, io partirei dall'accennarvi, dal parlarvi molto brevemente di un racconto, tra l'altro ho preso due libri, ma non ho preso le sue meraviglie, è stato appena citato, che è un libro del 2017, è riuscito ad essere una nuova edizione, con una nuova copertina, perché lì ne parliamo un po' di più. Il racconto appunto a cui volevo alludere è Thlon of Bar Orbistercius, che è un racconto di Jorge Luis Borges del 1940, che appunto è quello che abbiamo scelto, da cui viene il nome Thlon, e che in qualche modo rappresenta delle caratteristiche sempre, come dire, in qualche modo sembra letto oggi una profezia sul mondo in cui viviamo, in cui ci troviamo, in cui è molto difficile, è sempre più difficile distinguere il vero dal falso, in cui un mondo falso sembra sempre più spesso che si sostituisca a un mondo vero. Questo accade con tante narrazioni diverse, per esempio quello che hanno a che fare con la politica, con le teorie del complotto, con le notizie false. Io ho sottolineato molto spesso, sui social, in maniera molto più semplice, più veloce, ma in realtà ci sono molte pubblicazioni che vanno in questa direzione, ho sottolineato molto spesso che quando si parla di teorie del complotto, di teorie antiscientifiche, di teorie populiste, non si può parlare solo di fatti, si deve parlare sempre anche di narrazioni, si parla di descrizione del mondo e di cornici attraverso cui si iscrive una narrazione, si iscrive una storia. Questo ha a che fare, lo ricordavo anche qualche giorno fa, con per esempio i fatti di Capitol Hill, su questo trovate, vi dico, trovate un mio video di un anno fa, ma in realtà la base sono alcuni studi, è un libro che abbiamo pubblicato con l'edizione di Trump che si chiama La stella nera di Gary Lachman, che parla per esempio di tutta la narrazione, di tutto il suo stato di wishful thinking e new thought, su cui si basa per esempio la narrazione di Donald Trump. E appunto Capitol Hill secondo me non è comprensibile solo descrivendo le persone che hanno compiuto quell'assalto, quell'attacco alla democrazia come persone stupide o persone ignoranti, va compreso all'interno di una granice di narrazione, perché poi alla fine quando si parla di relazioni umane, quando si parla di fatti privati e di fatti sociali, parliamo sempre di storie, di narrazioni, parliamo sempre di credenze. Oggi si parla molto di bias cognitivi, degli errori sistematici che compie il cervello, di tutte le convinzioni false che abbiamo, che in qualche modo sono la dimostrazione neuroscientifica anche della logica filosofica che ha qualche millennio. Ecco, la cosa di cui non ci rendiamo spesso conto è il fatto che i bias cognitivi non sono del tutto eliminabili e che i bias cognitivi non ce li hanno solo le altre persone, ma ce li abbiamo anche noi. E che questi bias cognitivi in qualche modo danno una descrizione della realtà che a noi pare coerente, ma spesso non lo è, perché in realtà chiunque di noi crede che siano vere delle cose che vere non sono affatto, soprattutto se non hanno a che fare con il proprio ambito di competenza. Quindi quando parliamo di narrazioni, parliamo di qualcosa di estremamente urgente, parliamo di qualcosa che sta mettendo in crisi il tessuto sociale, perché oggi assistiamo, soprattutto quando parliamo di cambiamento climatico, di emergenza sanitaria, di populismo, di diritti, assistiamo a narrazioni diverse che sembrano inconciliabili e che ci danno questa sensazione molto forte di non riuscire a capirci. Perché io non riesco a parlare con una persona che ha un'idea diversa dalla mia rispetto ai vaccini? Perché è come se stessimo vivendo in mondi diversi. Questa cosa ha a che fare con la narrazione e con la comunicazione, ha a che fare moltissimo con i mondi digitali. C'è un filosofo che è estremamente apocalittico nei confronti del digitale, anche per un fatto di generazione, ma che per me rimane sempre uno dei grandissimi menti della filosofia e della teoria politica del Novecento, che è Jürgen Habermas, è davvero estremamente apocalistico, ma anche perché, appunto, è ragione della solità anche per questo. E c'è una distensione che lui fa che secondo me è importante. Quindi io non sono un'apocalittica del digitale, sono estremamente curiosa, ma sono molto critica perché effettivamente credo che dobbiamo imparare ad abitarlo questo mondo e dobbiamo anche capire come abitarlo con degli strumenti di educazione civica, educazione sentimentale, etica del discorso, che invece non si trova. Perché quello che si trova sono semplificazioni, polarizzazione, e quella che Jürgen Habermas chiama appunto razionalità digitale. Quindi la distinzione che lui fa è quella tra razionalità discorsiva e razionalità digitale. Alla base della società, del dibattito pubblico, dovrebbe esserci la capacità di fare discorso, di costruire argomentazioni, di verificare i fatti, di osservare i dati, di saperli interpretare. Questo in realtà potremmo dire che non esiste neanche nella società del mondo fisico, sicuramente esiste ancora di meno nel mondo digitale. Quindi la razionalità digitale è quella che ci porta a ragionare sulla base del sondaggio, della reazione emotiva. Leggevo qualche giorno fa, non mi ricordo l'autore che veniva citato, è un libro che si chiama Vetrinezzazione di Vanni Codemupi, che è stato un allievo di Baudrillard, insomma è un sociologo italiano, che parla molto dell'idea della vetrina, quindi del processo di vetrinizzazione che la società ha subito dalla fine del Settecento a oggi, perché è alla fine del Settecento che nascono le vetrine, che le merci vengono esposte e che quindi anche gli individui cominciano a esporsi in vetrina. E quello che lui diceva, però sulla base di un autore, non ricordo il nome, è che non possiamo più parlare, soprattutto quando parliamo di social, di opinione pubblica, dobbiamo parlare di emozione pubblica. Cioè quello sulla base di cui noi discutiamo, quello sulla base di cui noi ci insultiamo, spesso sui social, è il cosiddetto contagio emotivo. Non sono davvero opinioni e non sono davvero argomenti quelli che sono a confronto, ma sono delle reazioni istintive, più che emozioni vere e proprie, che in qualche modo si confliggono e non si comprendono, perché io respingo quelle delle altre persone e le altre persone respingono le mie. Oppure ci riuniamo in sciami che si uniscono, magari per una bogna pubblica, nei confronti di qualcuno, del mostro del giorno e poi si disperdono. Quindi questo per dire che la narrazione digitale è uno strumento fondamentale, è uno strumento potentissimo, che però credo che non sappiamo usare con grandissima abilità oggi, molto spesso. Molto spesso la riduciamo a degli strumenti di persuasione della comunicazione tradizionale, che in realtà sui social e nel digitale in generale non funzionano esattamente allo stesso modo. Quindi questo un po' per descrivere il fatto che poi stiamo sempre immersi nelle storie. Qualunque sia quello a cui crediamo, quello a cui crediamo è sempre una storia. Anche quando pensiamo di essere puramente razionali, siamo degli esseri narrativi, abbiamo bisogno di storie per essere coinvolti motivamente. Quindi è per questo che la narrazione e la filosofia della narrazione, che tra l'altro in Italia ha sempre avuto una bella tradizione, sono estremamente importanti. Perché parlo di filosofia della narrazione? Perché parlo di una riflessione sui processi di narrazione che hanno a che fare sia con l'individuo che con la società. Quindi la narrazione ha a che fare sia con la tua storia personale, sia con una storia collettiva di cui ti senti parte. Oggi questa storia collettiva, più che fatta da una società in generale, perché diventa sempre più difficile percepire qualcosa che sia bene comune, è una storia fatta di piccole comunità o di nicchie, perché siamo sempre di più targetizzati nel mondo digitale in nicchie ed è sempre più faticoso invece nel mondo fisico incontrarsi all'interno sociale. Ovviamente è diventato faticoso per causa di forza maggiore negli ultimi due anni. E quindi quella su cui spesso collassiamo è anche la nostra narrazione personale, la storia personale, che poi è quello di cui facciamo vetrina sui social network. Poco fa si parlava di Società della Performance, è appunto un libro che io andrei a un'espressione che abbiamo iniziato a usare molti anni fa in realtà e che poi è diventato anche il titolo del libro del 2018, in cui abbiamo cercato di raccontare il passaggio che è avvenuto. È un po' la mia ossessione, sto scrivendo un altro libro anche adesso, su un aspetto in particolare di un periodo che mi ossessiona tantissimo, che è quello che va dalla fine del Settecento all'inizio del Novecento, che è stato un periodo che a noi può sembrare lungo, in realtà nella storia dell'umanità non è stato così lungo, ma in cui sono accaduti una serie di processi che hanno cambiato profondamente l'identità personale e le relazioni tra le persone, le relazioni di potere e che ci hanno portato anche questo grandissimo senso di infelicità e soddisfazione che viviamo oggi. Sono successe tante cose, sono nate le interviste, è nato il giornalismo, sono nati una serie di processi tutti insieme, è nata la fotografia, è nata la moda, è nato l'abbigliamento, sono nate le taglie, sono nate una serie di cose che prima non esistevano in questa forma, perché le persone si sono spostate in centri, quindi con il processo di urbanizzazione dopo la rivoluzione industriale, ci siamo spostate in centri più grandi e quindi è cambiata in qualche modo la condizione umana. E questo per me è particolarmente interessante, perché in qualche modo ci fa capire che la società in cui viviamo è un fatto storico, non è un fatto naturale. Il bisogno di narrazione è un fatto naturale, perché tutte le comunità, tutte le civiltà del mondo hanno sempre avuto bisogno di raccontarsi, ma questa sensazione che abbiamo di fatica e questo senso di inautenticità che spesso proviamo e che ci appesantisce moltissimo è dovuto a questa configurazione sociale che è più recente di quanto pensiamo e che appunto abbiamo chiamato società della performance perché in qualche modo è un passaggio successivo rispetto alla società dello spettacolo. Siamo performer in qualunque ambito della vita, abbiamo un'ansia da prestazione che dipende da questa richiesta costante di performatività e abbiamo la sensazione di non poterci mai fermare. E di osservare gli altri che, a nostro giudizio, invece riescono ad andare avanti, sanno sempre che cosa fare, sanno sempre dove andare. Questo da un lato ci spinge a doverci raccontare, perché altrimenti le persone ci dimenticano, la cosiddetta fear of missing out, la fomo, la paura di essere dimenticati e di perdersi quello che sta accadendo. Quindi abbiamo bisogno di questo riconoscimento sociale per cui ci raccontiamo, però spesso quello che raccontiamo di noi non è la verità, non è la nostra vera storia. Da qui voglio passare a leggere un brano che abbiamo invece, che abbiamo riportato nell'ultimo libro che abbiamo scritto io, Andrea Colana Medici, che è uscito a ottobre, che si chiama L'alba dei nuovi dei, che parla del passaggio da Platone, diciamo, parla della crepa in cui oggi stiamo vivendo che ha delle somiglianze molto forti con la crepa da cui nacque la filosofia due millenni e mezzo fa. Quindi dal passaggio da oralità scrittura, il cui in qualche modo, il cui comandante fu Platone, perché Platone diede una direzione in questo senso, è quello che viviamo oggi da scrittura digitale, per cui parlare di digital storytelling e di potere della scrittura, in questo senso, rappresenta poi la domanda, cioè come facciamo ad attraversare questa crepa, come facciamo a raccontarci ora che la struttura del racconto sta cambiando e come facciamo a raccontarci in una maniera che non sia solo un cerchiamo di capire quali sono le 10 tecniche, le cose da fare, le cose da non fare per raccontarsi in digitale, ma si tratta di domandarsi come facciamo a restituire attraverso gli strumenti digitali una narrazione che sia colma di senso, che dia il senso di ulteriorità che spesso non si riesce a percepire, che non sia fine a se stessa, che non abbia lo scopo di monetizzare, di vendersi, ma che abbia qualcosa in più dentro. E allora vi volevo leggere un brano di Gershom Scholem, racconta che è stato inserito nelle grandi correnti della mistica ebraica, era una storia che gli era stata trasvessa da Joseph Agnon. Quando il Baal Shem, il fondatore dell'Ocassidismo, doveva assolvere un compito difficile, andava in un certo posto nel bosco, accendeva un fuoco, diceva le preghiere, e ciò che voleva si realizzava. Quando una generazione dopo, il Magid di Meserish si trovò di fronte allo stesso problema, si recò in quel posto nel bosco e disse non sappiamo più accendere il fuoco, ma possiamo dire le preghiere, e tutto avvenne secondo il suo desiderio. Ancora una generazione dopo, Rabbi Moshe Laib di Sassov si trovò nella stessa situazione, andò nel bosco e disse non sappiamo più accendere il fuoco, non sappiamo più dire le preghiere, ma conosciamo il posto nel bosco e questo deve bastare. E infatti bastò. Ma quando un'altra generazione trascorse e Rabbi Israel di Rishin dovette anche egli misurarsi con la stessa difficoltà, restò nel suo castello, si mise a sedere sulla sua sedia dorata e disse non sappiamo più accendere il fuoco, non siamo capaci di recitare le preghiere e non conosciamo nemmeno il posto nel bosco, ma di tutto questo possiamo raccontare la storia. E ancora una volta, questo bastò. Questo brano rappresenta proprio, secondo me, il potere del raccontarsi, che è un collante fondamentale tra esseri umani ed è un collante anche tra generazioni. in qualche modo rappresenta la trasmissione di una memoria che è profondamente importante. Quello che percepiamo oggi e non solo negli ultimi anni, secondo me, perché appunto noi lo scrivevamo nel 2018 nella società della performance ed era già una percezione molto forte quella che in qualche modo dovessimo traghettare, stessimo traghettando qualcosa. Abbiamo la paura, quando parliamo di digitale, di star perdendo qualcosa. Perdiamo una memoria, perdiamo un patrimonio, perdiamo degli strumenti, un certo livello di concentrazione. Io sono una grande appassionante, una lettrice molto vorace e effettivamente mi rendo conto, parlando con le persone, che è sempre più difficile avere quella certa concentrazione che la lettura richiede. Richiede uno sforzo perché siamo pieni di stimoli e quindi abbiamo da un lato la distrazione costante che fino agli anni 50 probabilmente nessuno provava. Quindi da prima che ci fosse la televisione non c'erano queste interruzioni costanti. Tantissime persone non potevano leggere e non potevano studiare. Chi poteva farlo non aveva tutte queste interruzioni. Oggi abbiamo strumenti culturali a disposizione anche gratuitamente, ma è come se l'attenzione fosse sempre più frammentata. Ed è come se spesso la cultura, lo studio, l'erudizione, l'approfondimento avessero un valore negativo perché sono troppo lenti, perché richiedono troppo tempo, perché in qualche modo richiedono un pensiero lungo e non sono al passo con i tempi. Io non credo che questo sia un momento in cui la soluzione sia dire come dire torniamo i libri, torniamo ai vecchi studi, lasciamo perdere gli strumenti digitali o usiamo gli strumenti digitali perché quelli sono il futuro e non è più importante studiare. Io credo anzi che sia estremamente importante percepire anche dentro di sé queste due istanze e cercare di capire come la narrazione, come quella storia, anche se abbiamo la sensazione di esserci dimenticati il posto nel bosco, come accendere il fuoco, come dire le preghiere, la sensazione è che quella storia possiamo continuare a raccontarla, perché ha a che fare proprio con la storia umana, ha a che fare con delle domande che hanno almeno due millenni e mezzo da quando è nata la filosofia perché in realtà hanno molti più millenni. È questa sensazione che è molto difficile riportare nel digitale ed è questa sensazione che però secondo me va coltivata. Poi non so se nelle domande avrete voglia di chiedermi qualcosa poi sulla mia esperienza su quello che facciamo noi sul digitale perché poi quello che noi cerchiamo di fare come diceva prima il magnifico rettore è cercare di stare dentro i social network sempre con la sensazione che poi alla fine non possiamo portarci tutto, tutto quello che studiamo, tutto quello che pensiamo, tutto quello che scriviamo perché poi la nostra, mia appunto, di andare con la medici, i nostri interessi principali hanno a che fare con i libri e con le conferenze, con lo spazio di discussione di studio dei testi. Però ci è sembrato qualche anno fa che fosse importante andare lì dove c'erano le persone, quindi se volete ovviamente fatemi anche delle domande su questo dato che poi è, credo che sia anche un argomento di vostro interesse. Per tornare alla scrittura, a questo punto però, quindi una volta che vi ho dato questa idea anche, come dire, piuttosto critica del mondo digitale, proprio come configurazione, come luogo, come spazio che noi creiamo, andiamo appunto a quello che si diceva prima che appunto che citava Giusi Toto, cioè l'idea di fioritura personale. Perché se è vero che il digitale è uno spazio, una configurazione pubblica per quanto sia quasi sempre uno spazio privato, ma in qualche modo uno spazio di relazione tra le persone. Quindi io quello che sottolineo sempre è che ci sono dei grandissimi interessi economici e ci sono degli aspetti che secondo me sono molto pericolosi, che purtroppo politica e istituzione a tutti i livelli non hanno preso in considerazione, che hanno a che fare con la sovranità monetaria, economica, insomma, e politica anche, delle piattaforme. Però quello che mi interessa, poi l'ambito che mi interessa a vedere con le persone è anche la nostra responsabilità. Quindi al di là di quello che esiste, consiglio sempre per esempio Morozov come teorico, più che guardare i molto criticati anche giustamente prodotti commerciali tipo The Social Dilemma, che ha spaventato molte persone e secondo me questo è stato utile, ma che ovviamente non ha l'approfondimento e che possono avere altri studi. Consiglio sempre Morozov, Shoshana Zubov, insomma, tutti gli studiosi che parlano di capitalismo nella sorveglianza e che quindi parlano degli aspetti di controllo delle persone, dei corpi, dei pensieri che hanno a che fare con il digitale. Ma questo appunto lo lascio, lo metto da parte. Quello che a me interessa però è capire che cosa accade tra le persone, qual è la nostra responsabilità nel momento in cui facciamo digital storytelling, nel momento in cui siamo in uno spazio digitale in cui ci sono altre persone che però noi non percepiamo spesso come persone, percepiamo come nomi, come avatar e non come delle persone che in qualche modo su cui possiamo intervenire, cioè che in qualche modo che possiamo ferire con le nostre azioni, con le nostre parole. Spesso c'è questa sensazione che si è particolare con i personaggi famosi, nella convenzione che essendo famosi non vengono toccati da quello che noi diciamo ma non è affatto vero. Ma abbiamo proprio la sensazione nel momento in cui interagiamo nel digitale che quello che facciamo non abbia un effetto sulla persona a cui lo stiamo dicendo o a cui lo stiamo facendo, non è affatto così. E anche questo è frutto ormai di ricerche, di studi da moltissimi anni. Non solo ha un effetto sulla salute mentale delle persone forse anche un effetto più forte di quanto abbia la stessa azione compiuta nello spazio fisico. Dicevo però passiamo a questo punto a parlare di scrittura come fioritura personale. Perché? Che cos'è la fioritura personale? È un'espressione che noi abbiamo iniziato a usare che in realtà si ritrova anche in alcune filosofie contemporanee. La usa per certi versi. Un'espressione simile la usa Marta Nussbaum. Si ritrova qualcosa di simile anche in Donna Haraway anche in Manifesto Cyborg e in testi successivi. La usa la usava Hillary Putnam ed è da lì che noi l'abbiamo presa con l'idea della fioritura romana. Quindi abbiamo iniziato a usare qualche anno fa questa espressione perché volevamo recuperare uno dei sensi principali della filosofia. Secondo Giorgio Colli la filosofia ha due matrici fondamentali una mistica e una politica. Quindi la filosofia nasce dal tentativo di domandarsi come possiamo convivere bene insieme passatemela così semplificata quindi il tentativo di domandarsi quale può essere lo stato lo stato ideale lo stato giusto da creare che cos'è il bene comune che cos'è la verità ma poi una matrice mistica tant'è che un islamista Henri Corbin dice famosissimo islamista oggi quasi dimenticato diceva che la storia della spiritualità la storia della filosofia sono state la medesima storia per moltissimo tempo tant'è che secondo Michel Foucault le scuole filosofiche antiche utilizzavano le tecnologie del sé quindi utilizzavano erano delle scuole che in qualche modo si occupavano dello sviluppo armonico dell'essere umano che richiedevano una disciplina che nessuno di noi credo sarebbe oggi in grado di usare quindi avevano bisogno di tutta l'energia di tutto il tempo di tutta la dedizione degli allievi che facevano parte di queste scuole e avevano un'impronta mistica questo lo dicono tanti studiosi oggi e in questo la storia della filosofia antica e soprattutto gli storici della filosofia antica hanno rivisto alcune posizioni in questi anni e effettivamente c'è un'apertura molto più grande sull'idea che soprattutto i cosiddetti presocratici ma anche tanti filosofi antichi un po' più recenti fossero anche dei maestri spirituali avessero un altro tipo di apertura in questo che cos'è la fioritura personale è una è un percorso di cura di sé che si può creare e che non è ovviamente sovrapponibile a un percorso psicologico ma a che fare proprio con l'uso di queste tecnologie del sé con l'uso di strumenti di comprensione quindi la filosofia è essenziale secondo me in momenti come questi urgente per capire cosa succede nel mondo dove vogliamo andare come vogliamo affrontare le sfide del presente ma serve anche per capire chi sono io cosa desidero veramente quali sono i miei desideri autentici qual è la mia storia e in questo la filosofia della narrazione riguarda la fioritura personale perché fiorire perché la persona non è come dire la soggettività umana è qualcosa di molto più complesso di quanto pensiamo tra l'altro le neuroscienze in questi anni stanno confermando alcune idee spirituali che ci possono sembrare anche piuttosto le chiameremo oggi fricchettone cioè delle idee senza alcun fondamento scientifico per esempio quelle legate della frammentazione degli io quindi il fatto che non abbiamo un unico io ma siamo esseri frammentari le neuroscienze stanno confermando questo e c'è un'idea che a me piace molto di un filosofo della scienza che si chiama Daniel Dennett che forse oggi è il più importante il filosofo della mente vivente che è l'idea di centro di gravità narrativa cioè quella sensazione quel bisogno che noi abbiamo di avere una storia che sia coerente ora in questo appuntamento non riusciamo a fare effettivamente degli esercizi anche per una mancanza di come dire di relazione quindi è difficile guardarsi negli occhi è difficile come dire avere la sensazione di concentrazione che dà invece lo stare insieme e lo scrivere in gruppo ma quello che in qualche modo la filosofia della narrazione si domanda insieme alla filosofia della mente è che cosa come dire che cosa c'è dietro poi alla fine le storie che noi ci raccontiamo cosa chi è l'io che dice io chi è il se che si racconta e se questa pretesa di coerenza che noi abbiamo è effettivamente come dire a ragion d'essere è effettivamente vera o se è tutta un'illusione secondo Daniel Dennett però non me lo sono preparata quindi questo è l'altro libro in cui ne abbiamo raccontato che si chiama Prendi la Confine Sofie è uscito forse esattamente sì esattamente un anno fa e però appunto non me lo sono preparata e non credo di riuscire a prenderlo a trovarlo immediatamente però la sua idea di centro di gravità narrativa è interessante perché quello che lui dice è da un certo punto di vista simile a quello che dice un filosofo della narrazione italiano forse più conosciuto che Duccio Demetrio che è il fondatore della scuola di autobiografia di Anghiari si occupa molto di diari di autobiografie e cioè il fatto che noi crediamo che la stessa persona che lui dice è salita sulla tour Eiffel ha mangiato quel piatto di pasta ha baciato quella persona sia fosse sempre la stessa persona ma in realtà questo è un filo che noi tessiamo è l'idea che ci sia un unico sé che guida e che è presente durante tutto quello che ci accade nella vita ma in realtà siamo molto più complessi di così e in questo può essere interessante anche capire che cos'è la coerenza perché coerenza etimologicamente non ha a che fare con un'identità fissa quindi io sono una persona tutta ad un pezzo che ha sempre le stesse idee che non le cambia mai in realtà ha molto più a che vedere con il contenere moltitudini come diceva Walt Whitman cioè ha a che fare proprio con il contenere tutte le varie parti di sé e quindi quello che la filosofia e la narrazione della mente e le neuroscienze oggi ci dicono è che ci sono tante parti di noi e che ci sono tanti io che emergono nel corso della nostra vita e della nostra storia e che ci sono tante cose da raccontare ma quello che ci vuole spesso è il coraggio di guardarle e di guardare soprattutto le incoerenze che noi abbiamo grande paura di guardare in questo Duccio Demetrio consiglia io faccio quando facevo dal vivo soprattutto dei workshop di otto ore sulla narrazione uno degli esercizi che facevo fare era quello della scrittura della lettera una lettera sulla storia della propria vita e le persone immediatamente non sapevano bene che cosa dire oppure avevano già un'idea cioè io racconto come farei su un social network come farei su LinkedIn quindi su un social network in cui io devo dimostrare tutti i successi tutte le cose positive in cui devo raccontare le nuove come dire le nuove cose che sto facendo avevano un po' quell'idea lì oppure erano molto confuse oppure avevano l'idea di non aver avuto una vita interessante da raccontare quello che invece scoprivano iniziando a scrivere era che che di cose ne emergevano tantissime e che era impossibile metterle tutte dentro la storia di una stessa persona quindi si rendevano conto che la persona che aveva compiuto certe cose nel corso della vita non era esattamente sempre la stessa e che ci voleva tantissimo tempo e che ci volevano tantissime digressioni perché io usavo e uso spesso la scrittura soprattutto la scrittura su carta perché la scrittura su carta attiva delle nostre parti diverse da quelle della scrittura digitale e quindi per un certo tipo di racconto di sé è molto più potente perché la scrittura è una tecnologia è una tecnologia del sé e secondo me è importante considerare la scrittura e il libro come una tecnologia perché noi abbiamo l'idea che la tecnologia sia la macchina a vapore o il computer o il visore VR quelle sono tecnologie perché sono macchine ma in realtà le tecnologie hanno a che fare soprattutto le tecnologie del sé con degli strumenti che ci aiutano a andare in profondità e a far emergere delle cose che altrimenti non emergerebbero e la scrittura in questo senso è uno strumento tecnologico che ci sembra naturale perché ha qualche millennio ma che in realtà non è così naturale è stato inventato a un certo punto per questo che poi parliamo del passaggio dall'oralità alla scrittura come di un passaggio tecnologico è stata una rivoluzione tecnologica quella lì mi sembra assurdo che quando Platone andava a scopriva come dire guardava il libro di Anasagora di cui c'erano pochissime copie stesse guardando qualcosa di molto simile a quello che noi osserviamo quando guardiamo Oculus il visore VR di Meta eppure era esattamente così tant'è che credo nelle nuvole di Aristofane venne messo in scena per far ridere il pubblico un uomo che leggeva quindi il pubblico rideva perché era ridicolo quello strumento così come se noi oggi andiamo a teatro è possibile che ci sia succeduto soprattutto con i selfie non so se appunto un po' di forse una decina di anni fa a me è capitato una serie di volte di andare a teatro a vedere spettacoli diversi per far ridere il pubblico ci si scattava un selfie cioè gli attori sulla scena si facevano un selfie che era una cosa estremamente ridicola non so se vi ricordate oggi è normale perché poi questo è il potere delle tecnologie quello di sembrare immediatamente dopo poco naturali e normali oggi succede ancora con il visore VR probabilmente con il metaverso questo non sarà più così tra poco tra pochi anni probabilmente sarà normale anche quello quindi la scrittura è una tecnologia non è uno strumento di narrazione naturale è uno strumento che è stato inventato a un certo punto ma è uno strumento molto potente perché ci può aiutare a scoprire delle cose che altrimenti non scopriremo e perché questo c'entra con il percorso di fioritura personale perché appunto vi dicevo le persone non sono tutte uguali noi usiamo l'espressione fioritura perché è legata di nuovo alla filosofia antica perché io spero di non fare troppe citazioni però cerco di darvi degli stimoli però quando Diogene Laerzio nelle vite dei filosofi raccontava le storie di questi filosofi lo fa per esempio moltissimo con oh mamma mia con Empedocle forse non raccontava tanto la data di nascita ma raccontava la data di fioritura cioè l'acme che indicativamente spesso era intorno ai 40 anni quindi la data di maturazione la data di come dire in cui quella persona aveva scoperto la propria fioritura aveva trovato la propria vocazione la propria voce ed era diventata aveva completato il suo percorso di non voglio dire di formazione però appunto il suo percorso di fioritura quindi questa è un'espressione che è molto legata alla storia della filosofia quindi soprattutto ai racconti delle vite di filosofia di Diogene Laerzio ma anche al concetto stesso di eudaimonia di Aristotele perché noi la traduciamo in modo scorretto come dicono tanti esegeti della filosofia antica come felicità ma in realtà felicità non è eudaimonia perché la felicità come noi la intendiamo ha a che fare con delle esperienze di picco con un altro tipo di stato dell'essere mentre eudaimonia ha a che fare con l'avere un buon daimon è a che fare molto con il percorso con il percorso che appunto qualcuno credo anche Martha Nussbaum ha tradotto come fioritura quindi il processo di fioritura è quello in cui sostanzialmente tu scopri cerchi quantomeno di capire quale quale bulbo sei quindi qual è o come James Inman qual è la tua ghianda e quale diciamo lui parlava della teoria della ghianda e poi della quercia che potevi diventare nel nostro caso ci sembra più indicato anche per indicare le diversità delle persone umane l'idea di bulbo e di fiore quindi in qualche modo quello che noi ci costringiamo a fare e questo ha molto a che fare con le dinamiche sociali con la performatività è dire io voglio diventare un certo tipo di fiore senza domandarci anche perché spesso non abbiamo gli strumenti per farlo chi siamo quindi qual è il nostro bulbo qual è il nostro percorso di fieritura quali sono i nostri tempi perché poi spesso l'insoddisfazione e la fatica la frustrazione del vivere nella società attuale nasce dal fatto che i tempi sono standard noi viviamo in una società estremamente standardizzata e di nuovo non è un fatto naturale è un fatto culturale che è nato sempre alla fine del settecento quando si sono in qualche modo si sono costruiti sono creati dei costrutti sociali estremamente rigidi come mai erano stati prima d'ora quindi noi abbiamo l'idea che se non siamo adeguati a quei meccanismi sociali abbiamo qualcosa che non funziona abbiamo qualcosa che non va siamo noi essere sbagliati se abbiamo bisogno di fermarci se non sappiamo cosa desideriamo se all'inizio dell'anno non sappiamo quali sono i nostri buoni propositi siamo noi che abbiamo qualcosa di sbagliato mentre gli altri sanno sempre che cosa devono fare e quindi questo crea anche l'idea come dire la sorveglianza reciproca per cui noi pensiamo che gli altri siano sempre determinati e gli altri pensano che lo siamo noi in realtà le persone umane hanno inclinazioni diverse desideri diversi e una soggettività che è estremamente mutevole i desideri possono cambiare le inclinazioni possono cambiare ci concentriamo moltissimo in questa società sul talento molto poco sulla vocazione il talento i talenti sono degli strumenti che noi abbiamo che in qualche modo dovrebbero essere al servizio del percorso che stiamo compiendo molto spesso invece il talento i talenti diventano la misura del nostro valore quindi le persone che hanno i talenti giusti per esempio sanno comunicare o che hanno un talento eccezionale valgono di più in questa società rispetto alle persone che sanno fare bene un po' di cose possono cambiare tanti lavori non hanno un lavoro perfetto da fare l'unica cosa come dire un'unica strada ma hanno possono fare molte cose diverse non è detto che non abbiano una vocazione in questo senso quando si parla per esempio di Daimon non so se avete letto il codice dell'anima di James Inman che è un libro degli anni 90 è stato un grandissimo successo pubblicato in Italia da Delphi grandissimo best seller lui è stato uno psicologo statunitense che veniva definito il più europeo degli psicologi americani perché aveva studiato aveva diretto anche lo Young Institute per molti anni a Zurigo e una diciamo in uno dei suoi libri aveva parlato nel codice dell'anima di Daimon quindi raccontava alcune storie di personaggi famosi Judy Garland per esempio la prima che mi viene in mente e di questa entità in qualche modo che dai latini veniva chiamato Genio dai greci veniva chiamato Daimon ma poi ha avuto molti nomi nella storia e lui non chiarisce esattamente che cosa intende cioè non si capisce se intende un'entità effettiva reale o in qualche modo un'istanza psicologica una costruzione culturale però in qualche modo quello che dice è che la sensazione che abbiamo di avere una strada da compiere un compito da svolgere ha a che fare con il seguire il Daimon è un libro che per noi è stato sempre per me Andrea Colamedici molto importante io ho due edizioni una è praticamente distrutta per quante volte negli anni l'ho letta però comunque secondo noi ha un po' sconta un po' la visione americana del successo del raggiungimento del massimo delle proprie aspirazioni sì la versione migliore di te ovviamente non sto dicendo che James Seaman è equiparabile a un autore in self-help per esempio ma che in qualche modo il grande interrogativo che rimane nel codice dell'anima è chi non ha un Daimon così forte come quello di Judy Garland o di Colette che ne fa della propria vita rimane un po' il punto interrogativo cioè quello che James Seaman non chiarisce perché secondo noi perché la sua lettura di Platone del Daimon di Platone è una lettura che non tiene conto della grande della grande ambiguità dell'espressione del Daimon perché quello che dice Platone nel mito di Erre che è il mito della reincarnazione in cui parla del Daimon è che il Daimon è Apoplerotes è in sostanza un secondino cioè il Daimon che è questa creatura questa entità che in qualche modo ti dice cosa devi fare che è quella che invece a Socrate diceva solo che cosa evitare quindi se vi ricordate insomma un po' il Daimon di Socrate a lui non diceva cosa doveva fare solo una volta gli dice cosa fare tutto il resto gli dice non ti occupare di politica non fare questa strada non prendere non andare in questa direzione solo una volta gli dice cosa fare che è occupati di musica e Socrate non lo fa il Daimon nel mito di Erre ha a che fare con in qualche modo il compito che la persona deve svolgere nella sua vita non è detto però che avere un Daimon forte significhi avere una vita felice e una vita in fioritura perché il Daimon può essere quello che appunto Platone definisce in una possibile traduzione secondino cioè in qualche modo è come se tu rischiassi di essere schiavo del tuo Daimon Judy Garland non ha avuto la vita felice e lo stesso tantissime persone che Jane Silman racconta tantissimi musicisti con un Daimon e un talento eccezionale hanno avuto o moltissimi scrittori scrittrici hanno avuto una vita devastata da quel Daimon perché non potevano fare a meno di seguirlo di seguire quella strada di seguire quell'unica strada che avevano a disposizione per cui non potevano scegliere vi sarà capitato mille volte di leggere di artisti scrittori che dicono scrivo perché non posso fare nient'altro non è detto e Platone questo lo suggerisce che sia una strada felice perché potrebbe essere la strada di una persona che non può scegliere non può fare altrimenti quello che però avviene in questa società è che il talento diventa invece l'unica cosa importante cioè chi ha un talento eccezionale chi è eccezionale nel fare qualcosa ha senso la sua vita ha senso ha uno scopo tutte le altre persone no è per questo invece che considerato che credo il 95% delle persone è multipotenziale cioè non ha un talento eccezionale e però non vale di meno e non è neanche detto che abbia una vita più infelice o che faccia meno nella vita secondo noi è importante recuperare un'altra sensazione molto che in qualche modo la filosofia antica di cui la filosofia parlava e di cui invece noi parliamo molto poco che è quella della vocazione cioè la sensazione di essere nel posto in cui si deve stare di essere pesci nell'acqua questa sensazione qui è difficile da coltivare perché la società ti dice mi devi dimostrare di avere il talento e devi dimostrare di avere quegli strumenti di a disposizione il fatto che molti talenti si possono allenare ci sono le persone che avranno talenti straordinari Maradona che non doveva fare gli allenamenti quello che volete anche se poi in gran parte siamo noi che vediamo l'eccezione e non ci rendiamo conto a volte della fatica quindi io non credo che Matteo Berrettini ti svegli la mattina e faccia le partite di tennis senza aver faticato tantissimo essersi preparato tantissimo o come ci ha raccontato aver preso molto imodium per riuscire a fare la partita come ha scritto qualche giorno fa c'è un libro di Malcolm Gladwell proprio su questo non mi ricordo il titolo che parla di Mozart di Bill Gates di moltissime persone molto diverse tra loro con il suo solito piglio secondo me come dire con il suo solito taglio attesi estremamente netto ma attraverso cui racconta le cose interessanti e quello che lui sostiene è che questi grandi successi in realtà hanno dietro alle spalle sempre intanto un ambiente propizio un momento propizio in cui sono nati ma anche spesso almeno 10.000 ore di esercizio quindi per esempio Bill Gates ha passato tutte le scuole superiori per una serie di configurazioni positive a programmare sui primi computer che esistevano quelli non con le schede perforate quindi c'è anche questa romanticizzazione a volte del grande successo ma la cosa interessante è il fatto che in realtà noi non diamo spazio alla vocazione diamo spazio ai talenti diamo spazio a quello che sappiamo o non sappiamo fare ci colpevolizziamo spesso perché non sappiamo fare qualcosa ma non ci rendiamo conto invece della sensazione non coltiviamo la sensazione di stare come pesci nell'acqua quindi stare nell'elemento nel momento in cui in cui appunto stiamo facendo qualcosa qual è il problema della società della performance che ti dice di seguire una strada con l'illusione della razionalità con l'illusione che sia una scelta lucida concreta e razionale però molto spesso la sensazione è quella di dover cercare di raggiungere un traguardo quindi di dover tagliare il traguardo io devo arrivare a a ottenere quello per cui sto lavorando è lì che sarò felice in realtà la fioritura non ha a che fare con quel singolo momento di soddisfazione o di felicità il processo di fioritura ha a che fare con la sensazione di essere fortunati nel momento in cui stesso ok era andato in tutto ok spero di sì tutto ok ok no perché mi era partito uno screensaver che tra l'altro non sapevo di avere non so perché nel momento stesso in cui stai facendo qualcosa e questa sensazione è molto difficile da vivere oggi perché oggi ci come dire cerchiamo sempre di spingerci al taglio del traguardo a volte anche perché abbiamo qualcosa da dimostrare abbiamo bisogno dell'approvazione esterna o abbiamo qualcosa come dire o abbiamo il desiderio di farci invidiare dalle altre persone e questo è normale che poi ci impedisca di avere una nostra narrazione autentica perché è importante questo un po' per concludere il potere della scrittura e del raccontarsi perché la scrittura è una tecnologia è una tecnologia che permette di fare e appunto non vedete la tecnologia come un tentativo di come dire sterilizzare la scrittura in realtà è un come dire la scrittura ci permette di entrare in contatto con delle istanze delle idee dei pensieri delle emozioni e di ricordare di far riemergere delle cose che di solito abbiamo dimenticato spesso le abbiamo cancellate e dimenticate perché non erano coerenti con quello con l'immagine che ci stavamo raccontando di noi non è possibile come dire in qualche modo il processo di scrittura ha sempre lo scopo di scardinare quell'immagine che ci siamo creati di noi che spesso può essere simile a quella del nostro profilo social quando in realtà come persone umane non può esserlo nel senso che avrà sempre degli elementi discordanti e incoerenti e questo dipende anche dal fatto che il profilo social invece ci chiede coerenza dobbiamo avere sempre lo stesso aspetto parlare sempre degli stessi temi essere sempre dare un'idea di affidabilità agli altri esseri umani al nostro pubblico che in realtà è impossibile perché perché cambiamo c'è una cosa che succede spesso succede penso a chiunque abbia un'attività social in un profilo per molti anni che a un certo punto qualcuno ti accusi di essere cambiato probabilmente l'avrete visto forse l'avete anche pensato nei confronti di alcune persone quindi guarda Clio Makeup come era all'inizio e come è cambiata ci ha traditi in realtà quello a cui noi assistiamo per quanto noi non sappiamo tantissime cose della storia della sua vita delle sue economie pressoché di niente per quanto ci faccia vedere tanto ma non è certamente tutto quello che noi ignoriamo cioè non guardiamo è il percorso il fatto che il cambiamento fa parte della natura umana e che sui social però questa cosa viene esibita e quindi crea una serie di incoerenze che in realtà non giudicheremmo allo stesso modo se non avessimo la memoria di quella di quella timeline di quel profilo social per cui tutto rimane registrato quindi appunto per concludere il potere della scrittura è qualcosa che scarnia i meccanismi sociali che fa emergere delle incoerenze che fa emergere istanze molto diverse di noi e che è più potente di quanto sembri la chiamo tecnologia perché effettivamente una tecnologia del sé non la vedete come qualcosa di freddo qualcosa di estremamente caldo e permette di scoprire di rivelare delle cose di noi che invece per esempio in un certo tipo di comunicazione in cui dobbiamo venderci in cui dobbiamo dimostrare magari in due minuti come in un pitch come in un elevator pitch che si fa per esempio per in vari ambiti soprattutto nel business lì dobbiamo dire in due minuti che cosa sappiamo fare che cosa vogliamo fare che cosa abbiamo fatto la scrittura bisogna invece di altri tempi e lo scopo della scrittura è sempre quello di creare un collante tra quello che è stato della nostra vita quello che siamo noi insieme all'ambiente di cui facciamo parte quelli che sono i nostri desideri quindi è estremamente probabile che emergano delle cose molto diverse da quelle che noi pensavamo perché in una società come questa noi tendiamo a guardarci con quegli stessi occhi con cui ci guardiamo dall'esterno è quello che che in neuropsicologia si chiama consapevolezza interocettiva che purtroppo è un grandissimo problema come dire un grandissimo una grandissima conseguenza delle dinamite sociali cioè il fatto che noi disimpariamo cioè quello che accade il fatto che noi disimpariamo a percepire effettivamente chi siamo noi quali sono i nostri desideri quali sono i bisogni del nostro corpo questo succede per esempio anche rispetto alla bellezza al giudizio sul fisico al giudizio sul corpo in particolare nei confronti delle donne e questo quindi in qualche modo ci dà quel senso di allontanamento di allontanamento di alienazione da noi quello che la scrittura può darci è in qualche modo questo riavvicinamento cioè ci può permettere di scoprire delle cose di noi che in altri modi non si rivelano e non si rivelano perché noi facciamo selezione un po' per questo centro di gravità narrativa che vuole farsi tornare conti per cui quando raccontiamo la nostra storia raccontiamo solo quello che in qualche modo ci dà un'idea che per noi va bene che è coerente che non ci scomoda la scrittura invece ci scomoda è però un potere importante perché ci fa scoprire molto più di quanto pensiamo e ci fa percepire la complessità della nostra soggettività in questo per concludere appunto poi aspetto le domande io non credo che tutto questo che questa potenza narrativa che gli esseri umani esercitano da sempre si possa del tutto trasportare nel digitale quindi non credo che il digital storytelling sia possa del tutto restituire questo potere credo che certe cose abbiano a che fare con gli atti privati personali con gli esercizi con un tempo diverso e anche con l'incontro dal vivo però credo che dobbiamo domandarci cosa è possibile quale tipo di narrazione è possibile portare in digitale perché questa cosa è possibile perché altrimenti ci accettiamo l'idea che il mondo digitale sia solo intrattenimento e invece io credo che il mondo digitale dal momento che è fatto dalle persone dalle relazioni tra le persone possa essere anche un altro tipo di luogo dipende moltissimo da noi quindi ho cercato di darvi probabilmente vi ho come dire già dato troppe sollecitazioni e non vorrei avervi confusi ho cercato in qualche modo di descrivervi un po' un panorama che è molto vasto non abbiamo fatto degli esercizi però ovviamente io ne ho lavorati molti quindi ci sono molte cose appunto molti esercizi si trovano in prendi la contagiosofia anche di scrittura per esempio quella del diario fatto dalla sera verso la mattina come lo faceva Marco Aurelio duemila anni fa quindi ed è anche quello uno strumento molto potente perché se oggi facciamo un diario dalla mattina fino alla sera facciamo un elenco di cose di cose fatte siamo più o meno soddisfatti quando invece raccontiamo la storia al contrario emergono delle emozioni dei vissuti che già in un giorno nello spazio di qualche one avevamo cancellato quindi questo per esempio è uno degli esercizi che facciamo però appunto ci sono molti esercizi oggi che si possono fare con la scrittura e che secondo me sono estremamente potenti proprio per scoprire chi siamo quindi per scoprire quante cose abbiamo dentro di cui non ci rendiamo conto soprattutto perché siamo spinti a a produrre e a dimostrare di star producendo di essere attivi e abbiamo questa sensazione che il tempo accelere e quindi dobbiamo correre sempre di più e ci fa percepire proprio il senso di raccontarsi perché la grande sensazione che abbiamo provato soprattutto in questi due anni ma non solo perché poi secondo me quello che abbiamo vissuto ha molto a che fare con un processo che l'umanità ha creato negli ultimi secoli quello che è accaduto è che è diventato e sta diventando progressivamente più difficile capire il senso di quello che stai vivendo che cosa è accaduto chi sei tu qual è il tuo racconto qual è la tua storia in quest'ora il raccontarsi è fondamentale perché ti aiuta proprio a recuperare e a a recuperare una memoria e a cercare di vedere la complessità della tua identità e di tutto quello che ti circonda e a scoprire che questa molteplicità non può essere non può essere chiusa in un'immagine a due dimensioni ma ha bisogno di molto di più ora mi fermo e ripeto il fiato grazie mille grazie maura di da di questo splendido intervento prima di cominciare con le domande ti annuncio soltanto che il nostro pubblico è molto eterogeneo in generale ancora di più oggi quindi le domande sono molto 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 diverse io di solito tendo a raggrupparle per temi oggi è un po' difficile perché ci sono studenti un FG studenti che seguono il corso del PFA sostegno docenti studenti all'ultimo anno delle superiori quindi nel leggertene troverai domande molto diverse prima di cominciare con la prima non so se il professor Limone voleva fare qualche chiosa ma sì solo una battuta anch'io per ringraziare e per dire che stranamente il tuo intervento si è ricollegato in modo perfetto direi veramente complementare con gli interventi formativi che abbiamo condotto nell'ambito del corso di specializzazione per il sostegno che poi è il punto di riferimento principale di questo seminario e il nostro pubblico principale oggi anche se come diceva Giussi è molto più ampio perché siamo su un canale YouTube quindi ovviamente si intercetta un pubblico molto vasto ma dicevo la complementarità sta nel fatto che il lavoro che noi stiamo cercando di realizzare sul digital storytelling su queste narrazioni digitali in realtà ha proprio a che fare con la dimensione autobiografica il richiamo a Demetrio anche da noi è stato più volte fatto anche perché poi c'è un rapporto stretto che lega la tradizione pedagogica della scuola foggiana e quindi della nostra maestra che è in pensione da un po' di anni ma che ha fondato la facoltà che è Franca Pinto Minerva con il lavoro di Duccio Demetrio diciamo che tutti i ricercatori del nostro Teneo hanno passato delle settimane nell'università della narrazione della topografia di Duccio Demetrio ma non è solo questo il punto la narrazione digitale come ne intendiamo noi fa riferimento a questo modello di questi autori di Joe Lambert in particolare che hanno fondato a Berkeley un po' di anni fa negli anni 90 questo Center for Digital Storytelling che utilizza le tecnologie digitali ma nell'ottica di appunto strumenti di scavo di scrittura del sé e quindi proprio di narrazione autobiografica per tirar fuori con i linguaggi digitali storie di vita che magari come dire altrimenti queste persone non avrebbero avuto la voce per raccontare la grammatica per raccontare la sintassi per poterla raccontare e paradossalmente l'intervento con le narrazioni digitali che noi cerchiamo di fare è un intervento abilitante un intervento capacitante cioè un intervento che permette alle persone pur avendo a che fare con problemi di alfabetizzazione con i media con l'ABC dei media in realtà questi problemi diventano subito molto trasparenti scompaiono perché il focus diventa la dimensione autobiografica e raccontando se stessi in questo percorso che noi costruiamo poi iniziano a guardare criticamente anche il linguaggio mediale a costruire consapevolezza rispetto alla loro presenza digitale quindi si attivano più livelli di formazione ma in maniera quasi implicita e molto naturale riducendo anche quelle resistenze al cambiamento che derivano da pregiudizi nei confronti del linguaggio digitale come forma appunto deteriore della narrazione tutto questo scusami se mi sono rubato qualche minuto del tuo intervento per dire la piena coerenza e la complementarità continuo a dire con quello che stiamo facendo in aula quindi un intervento molto interessante e straordinariamente collegato con l'esperienza formativa che abbiamo fatto fino adesso quindi lascio la parola alle domande che sicuramente hanno popolato la chat grazie sì alcune molto anche articolate quindi io se riesco provo anche a riassumerne la prima ha parlato di narrazioni false nel mondo contemporaneo che danno addito a teorie del complotto come fake news derive populiste eccetera come possiamo riconoscere e demistificare queste narrazioni questa è la prima delle domande allora intanto conoscendole la sensazione che io ho molto forte probabilmente appunto l'avrete visto anche in questi anni cioè una delle azioni che si fa molto spesso quando si parla di di certe posizioni è quello di il cosiddetto blastare cioè il tentativo al momento in cui tu incontri qualcuno che anche per ignoranza ha delle posizioni ha un certo tipo di posizione è quello di ridicolizzarlo mettere un ridicolo questo purtroppo lo fanno anche delle persone competenti preparate sui temi di cui stanno parlando ed è qualcosa che io personalmente non ho mai condiviso ma non solo io ma anche chi appunto poi si occupa di una serie di altri processi quindi secondo me è importante non non ridicolizzare non prendere sotto gamba anche dei fenomeni che possono essere molto contenuti se conoscete per esempio la la teoria di QAnon che è una teoria che è nata sotto il banco molti anni fa negli Stati Uniti che è arrivata anche in Italia oggi se ne parla un po' di meno ma anche perché i luoghi in cui si parla si diffondono certe cose sono sempre di meno i social e sono altri che quindi sono anche più come dire anche più infidi perché più difficili da scovare quindi certe idee sono nate da alcuni forum americani si sono diffuse a Macchiadoli sono diffuse moltissime in questi anni quindi QAnon è questa appunto la principale teoria del complotto in cui confluiscono tante altre teorie poi è arrivata moltissimo in Italia credo che un anno fa fossero usciti uscite delle ricerche sul numero di persone che credevano a QAnon e sebbene fosse arrivata anche sui social su Facebook Instagram particolare su Facebook fino a un po' di tempo fa in realtà tantissime persone stanno usando canali Telegram o altri canali per diffondersi scambiarsi scambiarsi queste informazioni questi messaggi questi materiali questi documenti lo stesso succede con l'idea della terra piatta lo stesso succede per quanto appunto sia una faccenda un po' più complessa rispetto a questa però comunque sempre quella faccenda lì ha a che fare con i vaccini ha a che fare con varie teorie con tutte le teorie del complotto che spesso sono interrelate tra di loro la cosa importante secondo me è prendere sul serio quello che viene detto quindi il 5% di persone in Italia crede che la terra sia piatta perché lo crede da dove nasce quest'idea a cosa crede cioè cercare di fare la cosiddetta antirurgia sofistica cioè mettersi dall'altra parte questo è un esercizio che io faccio fare molto spesso cioè intanto cercare di studiare effettivamente di che cosa stiamo parlando quindi semplicemente dire liquidare le situazioni è come dire è molto diverso nel caso dei vaccini ci sono degli studi sull'esitanza vaccinale per esempio cioè quali sono le ragioni le ragioni sono molteplici quindi tanti studi per esempio di psicologia sociale stanno cercando di capire perché c'è un certo comportamento e ci sono le resistenze e le esitanze in alcuni casi ha a che fare con narrazioni alternative in altri casi no e quindi è anche importante secondo me distinguere per cercare di capire come comunicare come parlare alle persone nel caso di appunto per esempio del terrapiatismo può essere interessante fare l'antidologia sofistica cioè mettersi dall'altra parte questo è un esercizio che a volte dà molto fastidio un anno fa abbiamo fatto fare un esercizio del genere un'infermiera che era come dire estremamente infastidita anche da colleghi che avevano che diffondevano le teorie del complotto era molto infastidita dal dover in qualche modo argomentare le posizioni opposte però quello è lo scopo dell'antidologia sofistica cioè cos'è che facevano i sofisti l'idea che è passata anche qui la storia della filosofia sta cambiando alcune posizioni in questi anni cioè i sofisti probabilmente voi li avete studiati come me come i pornoi della filosofia quelli che si facevano pagare che non credevano a niente dicevano tutto il contrario di tutto anche poi un po' quello che si dice alla filosofia in generale oggi quello che è cambiato negli ultimi anni della storia della filosofia è che invece sono nate sempre di più come dire sono usciti degli studi che hanno dimostrato che i sofisti in realtà hanno inventato degli strumenti di ragionamento e di argomentazione che sono poi la base anche della logica filosofica quindi non erano i mercenari che ci sono stati raccontati uno di questi strumenti che secondo me è tanto semplice quanto potente è proprio quello dell'antidologia quindi io voglio capire perché una persona crede a QAnon intanto cerco di studiare come dire anche di vedere che video guarda cioè che video guarda che libri legge che documenti legge con chi parla è una cosa che io faccio molto spesso anche per probabilmente anche così per interesse personale anche per capire che cosa sta succedendo quindi intanto informarsi attraverso quegli stessi canali di informazione una volta capito questo cercare di argomentare cioè di usare quelle argomentazioni per capirle da dentro perché solo così possiamo capire come parlare cioè se tu parli con una persona che pensa che la terra sia piatta o questo ha a che fare ha avuto a che fare negli anni passati anche con le migrazioni non bastano i dati non bastano i fatti ma serve in qualche modo smontare quel tipo di narrazione questa cosa è possibile soprattutto se parli individualmente ma questa cosa ha bisogno di essere presa sul serio ha bisogno di un grande approfondimento e secondo me la chirurgia sofistica è uno degli strumenti che possono essere inutili quindi cercare di mettersi dall'altra parte per capire esattamente cosa pensa una persona cioè anche un gioco di come dire un gioco di dibattito e anche un gioco di di messa in scena tra l'altro uscirà tra un paio di settimane un lavoro che abbiamo fatto di Adela con la Medici proprio su questo su questi strumenti di dibattito una volta fatto questo ovviamente ciascuno di noi può capire un po' meglio come pensa una persona cosa guarda una persona che guarda un telegiornale che legge un giornale e che poi pensa certe cose di quel giornale possiamo farci delle idee quindi su perché c'è questa sfidusa nei confronti della della comunità scientifica nei confronti del cioè questo appunto non credere al cambiamento climatico perché è accaduto questo perché quello che è accaduto è accaduto negli ultimi negli ultimi anni ed è un processo di disintermediazione di cui secondo me sono stati molto responsabili il giornalismo e la politica in particolare e anche la comunicazione scientifica quindi cosa è accaduto secondo me questo può aiutare cioè io non credo che sia una formula credo che questo di antropologia sofistica dovrebbero fare soprattutto le persone che si occupano di istituzione di giornalismo però mi pare che invece semplificano ancora di più la questione ha molto a che fare con la comunicazione con la narrazione però credo che lo dobbiamo fare anche noi quindi anche la tendenza che oggi c'è a bollare come supide le persone che credono a certe cose che per noi sono senza senso secondo me non ci dà la misura di quanto invece sia importante cercare di creare un terreno comune con quelle persone lì è uscito un film forse l'avete visto un film che è stato molto criticato perché era troppo superficiale insomma molto criticato da alcune persone ma che secondo me ha messo in luce delle cose importanti che è Don't Look Up che è uscito qualche settimana fa che come dire ci sono tante cose da dire secondo me su quel film noi abbiamo scritto un post che ovviamente non racchiude tutto quello che volevamo dire però c'è un fatto in particolare che secondo me è importante tra l'altro in quel film se l'avete visto Leonardo Di Caprio che è lo scienziato protagonista del film litiga sui social con delle persone che dicono che questo meteorite che sta per distruggere la terra in realtà non esiste quindi che diffondono queste teorie e quello che lui dice in un monologo come dire che poi è il cuore del film è come è possibile che non ci intendiamo neanche su questo cioè non crediamo più nessuno di noi come dire non abbiamo non siamo d'accordo non c'è una condivisione neanche sul minimo cioè che dovrebbe essere sta arrivando meteorite poi possiamo avere idee diverse su come risolvere la situazione però che non riusciamo neanche a essere tutti d'accordo sul fatto che esista questo meteorite è un grosso problema ma qual è il punto che alla fine che tu creda o no cioè che noi pensiamo le persone che credono che la terra sia piatta siano delle stupide non cambia il fatto che siamo interdipendenti cioè viviamo tutti sul stesso pianeta e noi non possiamo davvero escludere le persone che hanno certe idee inconsistenti perché quelle persone e noi siamo sempre interrelati siamo sempre interdipendenti la soluzione deve essere sempre la cooperazione quindi può essere difficile doloroso complicato quasi impossibile cercare di ritrovare un tessuto comune però io credo che sia l'unica soluzione perché altrimenti affondiamo cioè nel momento in cui di fronte al cambiamento climatico abbiamo già le istituzioni che dicono che vogliono fare qualcosa e poi non fanno niente e ci insultiamo tra di noi in realtà qualunque azione possa arrivare soprattutto se arriva dall'alto non sarà mai condivisa quindi secondo me il senso di cooperazione che tra l'altro è secondo me l'obiettivo più importante dell'agenda per lo sviluppo sostenibile che ha a che fare con la partnership è qualcosa che sembra utopia sembra illusione io mi rendo conto mentre lo dico che sto parlando di una società che non esisterà mai ma è qualcosa che dobbiamo quantomeno tentare di costruire quindi per riassumere ho dato una risposta lunghissima per riassumere intanto studiare a cosa credono le persone che credono a certe teorie quindi approfondire perché altrimenti rimane un discorso troppo superficiale cercare di mettersi in quei panni di argomentare per capire come pensa chi crede a quel frame narrativo e poi cercare di creare un tessuto comune che può essere molto difficile molto spesso un fallimento però secondo me in un tempo come questo non possiamo esimerci dal farlo perché perché in realtà siamo interdipendenti quindi dipende dall'azione comune e collettiva la possibilità forse ancora di salvarci come specie umana grazie molte in chat soprattutto sul canale youtube ci sono tantissimi commenti molto carini io non ho un criterio per scegliere le domande quindi mi scuso magari ma ora se mi dai una mano mi confermi diciamo che incontreremo anche poi in presenza questi studenti così magari hanno modo di porgerti queste domande direttamente te ne faccio una che mi sembra abbastanza impegnata è anche militante legata al nostro contesto credo sia di uno studente da come è stata scritta in un contesto in cui la narrazione soprattutto dei social media o dei mezzi di comunicazione di massa è sempre negativa come nel contesto in cui viviamo noi cambiare narrazione può aiutare noi studenti a guardare in maniera positiva il futuro sì perché io credo che la narrazione sia davvero un strumento potente di senso cioè tu puoi fare molte cose ma se questo non ha senso per la storia che stai costruendo e se non ha senso per la storia a cui tu partecipi nella società in cui vivi questo in realtà ti dà sempre una la percezione di cioè un sottile senso di disperazione quindi in questo io credo che sia veramente essenziale cioè abbiamo bisogno di raccontare la nostra storia abbiamo bisogno per quanto poi facciamo una selezione delle cose perché abbiamo bisogno di coerenza ma abbiamo bisogno di unire i punti e di creare il labirinto poi che dà la misura della nostra vita cioè questa società ci dice che la linea è dritta che la strada è una che dobbiamo essere determinati in realtà il percorso di vita di una persona è più simile a un labirinto Borges diceva che poi alla fine immaginava quest'uomo che attraversando valli monti vascelli avrebbe visto in questo tratto nel suo disegno nel suo percorso l'immagine del proprio volto è un po' questo che poi alla fine desideriamo come esseri umani questa cosa ha bisogno della storia e io credo che sì la narrazione si possa cambiare e credo che a cambiarla oggi possano essere soprattutto le generazioni più giovani perché non hanno una serie di pregiudizi che hanno le generazioni più grandi e possono liberarsi molto di più anche di una serie di freni narrativi di nuovo che hanno le generazioni più grandi purtroppo in un mondo ideale le generazioni giovani dovrebbero essere ascoltate da quelle più grandi e questo purtroppo non succede però la narrazione è un altro tipo di comunicazione importante tant'è che poi su tanti temi io trovo essendo particolarmente curiosa cercando di ascoltare tante persone diverse e di avere una dieta mediatica molto varia su molte cose io trovo informazioni molto più approfondite e come dire anche molto divergenti e molto più come dire molto più solide da persone giovani anziché paradossalmente da persone più grandi e da canali di comunicazione diversi non credo che ci sia un miglior o peggio cioè non credo che io credo anzi che il grosso problema di questo paese sia la mancanza di un dialogo intergenerazionale perché secondo me arriva tutto lì cioè poi alla fine il nodo centrale è quello che è il fatto che non ci si parla tra persone di generazioni diverse e a volte anche di classi diverse ma io credo che i giovani possano le persone più giovani anche di me possano avere costruire delle narrazioni diverse il caso più grande è quello di Greta Thunberg o Greta Thunberg che appunto ha raccontato delle cose che in realtà facevano parte della come dire erano acquisizioni della scienza da tantissimi anni le ha raccontate in un altro modo le ha raccontate anche riuscendo a coinvolgere a creare entusiasmo e questo ovviamente ha smosso milioni di persone nel mondo poi il grosso problema è che purtroppo per quanto lei dica come osate comportarvi in questo modo le persone che davvero avrebbero come qualcuno ha scritto visto nei commenti che dovrebbero davvero potrebbero creare una vera transizione ecologica non lo fanno comunque però indubbiamente immaginate cosa sarebbe oggi il dibattito sul cambiamento climatico se una ragazza svedese non avesse iniziato a fare uno sciopero che è un gesto politico ma anche un gesto estetico e narrativo e ha a che fare moltissimo con le emozioni è chiaro che quando si devono trovare degli esperti di cambiamenti climatici si cerchino dei climatologi per quanto Greta Thunberg che è ancora molto giovane potrebbe diventarlo ovviamente quindi non ha ovviamente la formazione che ha uno scienziato che lavora da decenni in quell'ambito lì però è stata in grado di raccontare quella storia in un altro modo anche perché aveva a che fare con l'urgenza aveva a che fare con una sua ossessione aveva a che fare con il suo daimon probabilmente e questo secondo me non può essere messo in una scala gerarchica rispetto ai dati e rispetto ad altri fatti noi viviamo un mondo questo noi l'abbiamo raccontato in un altro libro e le sto citando un po' a tutti ma si parlava anche di Malefica in un altro libro che mi ha scritto nel 2019 che si chiama Liberati della brava bambina in cui raccontiamo in particolare riraccontiamo ovviamente una delle storie fondanti della grecità che è la storia di Medea la Medea di Euripide che è una tragedia potentissima in cui Euripide come dire mette non voglio dire mette la berlina però in qualche modo denuncia alcune distorsioni e alcune storture della società in cui viveva quello che viene fuori molto forte è il fatto che Giasone crede di essere superiore a Medea perché non vive le emozioni come le vive lei perché lui è razionale perché lui è concreto e noi viviamo in una società in cui il coinvolgimento emotivo viene considerato come meno valido meno importante degli aspetti razionali e allo stesso modo la comunicazione e la narrazione vengono considerati poco importanti la ragione per cui se mi concedete di dirlo qualche settimana fa appunto proprio da le istituzioni italiane hanno detto non avevamo capito che fosse necessario parlare con le persone dopo aver detto cosa potevano o non potevano fare cioè la comunicazione istituzionale scientifica non è stata al centro in questi anni ed è questo che ha creato forte disaffezione forte stanchezza nelle persone se noi avessimo avuto avessimo sentito vicine le persone che hanno preso delle decisioni sulla nostra vita in questi anni probabilmente questo grandissimo senso di incertezza e inconfusione sarebbe stato lo stesso perché viviamo comunque in una pandemia però sarebbe stato non sarebbe stato probabilmente così lacerante invece questo senso di abbandono deriva molto dalla mancanza di un certo tipo di narrazione di comunicazione che poi alla fine c'è lo stesso il fatto è che la comunicazione e la narrazione sono come la filosofia non puoi non avere una filosofia alla base di quello che dici se pensi di non averla hai probabilmente la base della filosofia peggiore del tuo tempo e allo stesso modo non puoi pensare quando dici qualcosa e ti occupi di qualcosa che in quello che dici e di cui ti occupi non c'entrino mai emozioni e storie devi esserne consapevole per cercare in qualche modo soprattutto se ti interessa quello di cui ti occupi per cercare di divulgarlo nel modo migliore possibile e questa è una chiamata la consapevolezza che riguarda tutte le persone questo è un tempo più complesso in cui vivere perché ovviamente anche i nostri nonni vivevano probabilmente in una società più semplice rispetto a questa oggi la società ci chiede di essere di acquisire degli strumenti di educazione sentimentale digitale educazione ai dati educazione civica che sono molto più sofisticati rispetto a quelli di un po' di tempo fa e però questo significa secondo me anche essere cittadina e cittadina approfitto Maura della tua presenza per un'ultima domanda in realtà ne sono due anche leggermente diverse però hanno un tema comune che è l'autonarrazione quindi te le faccio magari in successione e poi possiamo concludere la prima recita se l'autonarrazione permette la fioritura dell'io possiamo dire che un'autobiografia digitale cioè i social network come facebook o instagram consentono agli adolescenti di realizzare sia efficacemente un diario privato e la seconda domanda che è molto simile a questa dice quindi per una buona narrazione dobbiamo sempre partire da noi stessi? Allora manca poco scusate ho una figlia in dad che mi chiede le informazioni allora per una buona narrazione dobbiamo sempre partire da noi stessi secondo me dobbiamo anche dobbiamo sempre partire dalla storia perché partire da noi stessi a volte significa partire dall'immagine che abbiamo di noi quindi da un io con cui ci identifichiamo più che dalle storie che ci attraversano quindi secondo me questo ha a che fare molto con il lasciarsi trasportare dalla storia c'è un certo tipo di attenzione che si attiva nel momento in cui sei nel flusso c'è questo autore sicuramente lo conoscerete io ci provo ho fatto proprio degli esercizi per ricordarmi come si pronuncia comunque che è un autore di psicologia positiva che parla molto di stato di flusso quello che possiamo provare con la scrittura è proprio questo stato di flusso e questo stato di flusso ha a che fare anche con la possibilità di liberarsi dall'identificazione del proprio io cioè tu segui il flusso della storia quindi secondo me più che partire da noi possiamo partire dalle storie che abbiamo vissuto perché questo ci dà molta più libertà di azione è perché ci permette di fare la deriva all'interno delle nostre storie che è qualcosa che tra l'altro un altro esercizio che ne facciamo fare molto anche negli spazi pubblici quindi la deriva situazionista di Debord un po' rivisitata che è un altro esercizio che aiuta molto a liberarsi dagli schemi che noi abbiamo perché siamo pieni di schemi è la ragione per cui diventa sempre più difficile raggiungere un po' andare da un posto all'altro senza usare una mappa digitale che tra l'altro ha un effetto diverso rispetto all'uso delle mappe cartacee questo è stato studiato sui tassisti di Londra che quando usavano le mappe cartacee avevano certe attivazioni avevano creato un'espansione dell'ippocampo questo non avviene con le mappe digitali noi tendiamo a fare sempre le stesse strade che sono strade sia fisiche quindi andare da un posto all'altro seguendo la stessa strada che poi quella sensazione per cui ci sarà capitato anche andando a lavoro in macchina vi sarà capitato in dei giorni di ritrovarvi davanti al lavoro senza sapere come ci siete arrivati questo dipende anche dalla frammentazione della nostra attenzione la deriva ha a che fare col cambiare strada la deriva è un atto di psicogiografia appunto di cui parlava Guy Debord ma ha a che fare molto anche con la narrazione quindi secondo me bisogna lasciarsi trasportare dalla storia per andare da qualche altra parte perché il rischio quando racconti la tua storia è di raccontarla sempre uguale perché ti sei costruita una certa un frame e non ne esci invece una cosa importante della narrazione è imparare a vederne altri cioè vedere altre prospettive della stessa storia un altro esercizio che io faccio fare spesso cioè raccontare un episodio della vita da due punti di vista differenti non perché tu davvero riesci a guardare le cose da più punti di vista soprattutto se per esempio devi raccontare la storia di un litigio con una persona dal punto di vista di quella persona con cui sei ancora arrabbiato ma perché in questo modo acquisisci cioè recuperi ti ricordi delle cose che altrimenti avevi dimenticato avevi cancellato questo è importante farlo anche con la narrazione quindi per me non si tratta di partire dal proprio io si tratta di partire dalle proprie storie che è una cosa un po' diversa perché da un senso di grande libertà e perché poi lo scopo è quello di farsi venire delle idee e ampliare la mappa in qualche modo che abbiamo disegnato altrimenti rischiamo di disegnare una mappa di noi molto stretta che dà quella sensazione poi spesso per esempio nel racconto di sé sui social di è ora che dico è ora che pubblico è ora che cosa condivido ma in realtà un essere umano curioso non può mai raccontare tutta la propria storia perché quello che rimane fuori è sempre più di quello che abbiamo mai raccontato e qui arriva la seconda domanda no io non credo che i social siano un diario privato in questo non voglio entrare troppo nel discorso perché è molto complicato e perché probabilmente voi avete anche una formazione più adatta di me per parlarne io ascolto molto leggo appunto chi si occupa tra l'altro del rapporto tra costruzione dell'identità personale quindi pedagogia psicologia e mondi digitali però quindi mi domando tra l'altro appunto una figlia di quasi 11 anni che non usa i social network ma vede video su youtube e in qualche modo usa il mondo digitale mi rendo conto della quantità di attenzione che ci vuole per monitorare quello che fa senza sorvegliarla ma in qualche modo cercare di essere consapevole di che cosa sta facendo lì e se sta entrando in relazione con qualcuno però io non credo per esempio che una persona come lei che conosco così bene potrebbe mai raccontare davvero la propria storia all'interno del proprio diario digitale perché non è mai tutta la nostra storia perché c'è sempre un confine tra pubblico e privato che è qualcosa che noi decidiamo di mettere ma dobbiamo imparare a farlo molto spesso i giovani in questo costruendo oggi la propria identità personale attraverso i social network hanno molto più difficoltà di quanto ne abbiamo avuti noi io ho iniziato a usare le chat quando a 12 anni molto presto sempre con la sorveglianza dei miei genitori però mi rendo conto molto presto quando i modem facevano rumore e avevi dietro tua madre o tuo padre che guardavano che stavano lì a controllare quanti minuti stavi sullo schermo non tanto perché ti rovinavi gli occhi quanto perché costava un sacco di soldi costava non so un euro l'ora e quindi stavano lì a controllare forse innatamente nel mio caso la costruzione dell'identità personale è avvenuta più offline che online oggi avviene in gran parte online e questo è un processo molto complesso non entro in questo però diciamo che la mia idea è che nessuno possa davvero raccontarsi del tutto sul digitale perché nel digitale siamo portati a questo processo di vetrinizzazione per cui creiamo sempre comunque un personaggio e c'è sempre moltissimo che teniamo fuori sia perché vogliamo tenerlo fuori sia per un processo di autocensura ma anche perché magari non ne siamo neppure consapevoli quindi io non credo per esempio che neanche di Chiara Ferragni sappiamo tutto ci sono probabilmente moltissime cose che non sappiamo e forse sono anche cose che lei stessa non sa di sé che è anche la ragione per cui secondo me è importante fare una riflessione sui social e su una serie di grandissimi processi che stanno avvenendo però bisogna anche sempre fare attenzione a non giudicare le altre persone e a non pensare di conoscerle che è una cosa che invece avviene molto spesso quindi pensi conoscendo molto bene la voce di una persona perché l'hai sentita per anni conoscendo la faccia conoscendo alcune cose che ti dice pensi di conoscerla tantissimo a me è successo una volta concludo qui e vi dico come dire vi lascio questa cosa una volta della mia vita personale condivido molto poco ci sono molte persone che non sanno neanche che né che io Andrea con la medici siamo sposati né che abbiamo dei figli quindi come dire quello che noi cerchiamo di mettere di portare avanti soprattutto il contenuto quindi sono moltissime cose della nostra vita che non si sa molte persone non sanno neanche in che città abitiamo perché c'è questa confusione tra Milano e Roma e quindi per dire che non racconto tutto di me eppure e questo dipende molto dall'effetto alone e da altri bias cognitivi le persone sono convinte sulla base di quello che vedono di me di conoscere la mia vita la mia giornata ma non è così una volta qualche anno fa ho condiviso un'immagine di un pavimento che avevo appena lavato e quindi si vedevano il secchio lo straccio e il pavimento bagnato ho messo questa immagine e una persona ha detto io non pensavo che tu lavassi i pavimenti e questo significa che pensava che la mia vita fosse unicamente quello che mostravo cioè fosse unicamente una vita intellettuale che non ci fosse la vita personale che non ci fossero faccende domestiche un'altra persona pochi mesi fa mi ha detto secondo me voi non portate i vostri figli a scuola figuriamoci sarà qualcuno che li porta per voi quindi ci sono una serie cioè come dire nessuno davvero si racconta mai del tutto sui social network ma noi che leggiamo che siamo i suoi spettatori possiamo purtroppo avere sempre di più la sensazione che invece lo faccia ed è importante invece ricordarsi sempre secondo me che delle cose importanti che rimangano private quando si parla della propria vita è importante imparare a mettere il limite il confine più che il limite tra pubblico e privato e però che della vita degli altri per quanto il loro confine tra pubblico e privato possa essere molto diverso dal nostro degli altri in realtà non sappiamo mai quasi niente con questo vi saluto grazie grazie tante Maura ti ringrazio a nome mio e del professor Limone per aver arricchito le nostre lezioni i nostri corsi ti aspetti anzi vi aspettiamo in presenza te e Andrea alla prima occasione possibile è stato un bellissimo seminario e saluto anche tutti i nostri corsisti che ci hanno seguito e ci vediamo venerdì prossimo con il prossimo incontro grazie arrivederci a tutti voi a tutti i nostri corsi